Io che sono un sostenitore viola devo dire che la Fiorentina da record continua perché è riuscita a far vincere l'Inter per la prima volta a San Siro quindi battendo un nuovo record. Al di là delle battute mi trovo con Stefano Brandini, Dini, Gobbo a ultranza che ancora ha da tre giorni la soddisfazione di aver battuto Zeman. La soddisfazione che con Zeman erano quasi sei punti garantiti voglio dire soddisfazione più che altro c'è di aver vinto come ha vinto la Juventus e secondo me alla fine c'è stato rispetto tra i vecchi, tra i senatori insomma credo che Buffone e Compagna abbiano voluto avere rispetto nei confronti di Totti e De Rossi perché una partita potrebbe finire 8-1 credo. Da quando quella volta Totti fece, ti ricordi? 4? Sì, altri tempi, ma la Roma è una bella squadra, al di là del passato la Roma è una buona squadra, il problema è che gioca senza un criterio e alla fine la lite De Rossi-Zeman è chiara De Rossi che è uno dei più forti centrocampisti d'Europa ha spostato come mezzala ruoli inventati insomma questo non può pensare che il calcio sia poi un'alchimia così strana da poter inventare ogni domenica qualche qualcosa perché poi si rimedia le figuracce che si fa ormai quest'uomo ha 65 anni, ogni volta che ha una grande chance la padella, credo che lui dovrebbe secondo me fare un passo indietro e ora sono serio, credo che Zeman sia veramente un grande insegnante di calcio questo ne sono convinto, però credo che Zeman sia un allenatore che va benissimo o per una provinciale che non ha grosse pretese o addirittura per un settore giovanile ecco, io fossi da Roma a Zeman lo metterei a capo del settore giovanile perché sicuramente è un uomo che il calcio lo sa insegnare anche a livello comportamentale o meno ma a grandi livelli insomma Senti ma l'intervista di Cosmi sulla Juve la sentiste ieri a 90 anni? No, non l'ho sentita perché io sono tornato ieri da Monaco è stata meravigliosa, a un certo punto parlavano della Juve che gioca a un calcio nuovo e il Cosmi disse io se chiedete la mia, la Juve gioca a un calcio che gioca un bene non esiste il calcio nuovo antico al calcio o giochi bene o giochi bene Sono d'accordo, Cerse che è un amico che saluto che tra l'altro sta facendo benissimo a Siena insomma ricordiamoci che Siena è partita con meno 6 ha già due punti in classifica e anche ieri tutto sommato giocando con una delle grandi del campionato se avesse avuto l'occasione se avesse capitalizzato l'occasione di Calaio poi insomma c'è quel rigore che grida vendetta insomma sta facendo un ottimo campionato e dà ragione insomma gli schemi, le cose la Juventus gioca bene cioè quando una squadra gioca bene come gioca bene per esempio la Fiorentina la differenza tra la Juventus e la Fiorentina è che la Fiorentina gli manca a quel giocatore che la butta dentro ora per esempio sono un paio di domeniche che a Juventus c'è un pochino sottotono ma non si può d'altronde pretendere che questo giocatore risolva tutte le partite anche a centrocampo Borca Valero non sono un paio di domeniche anche con la Juve nonostante che la Fiorentina giocò benissimo con la Juve è un pochino però insomma è una bella squadra che lotta fino alla fine che comunque quest'anno farà un bel campionato il secondo calcio nel sedere dopo Zeman che credo che ne prenderà tanti uvia tanti no che forse lo manderanno a casa presto lo prende il Cagliari e soprattutto Cellino non so chi si dà la colpa ficcadente l'allenatore ma che è l'ultimo dei problemi la verità è che il Cagliari sta affrontando un campionato con una situazione insostenibile con queste guerre di questo Cellino campi aperti, campi chiusi, partite perse volutamente a tavolino credo che il Cagliari quest'anno dovrà veramente rivedere tutti i suoi programmi e dovrà lottare seriamente per non retrocedere parte sempre con l'obiettivo salvezza ma poi delle squadre che si deve salvare sempre dalle più privilegiate quest'anno credo che invece dovrà lottare così come il Chieva al quale però non mi sento poi di dare un grande calcio nel sedere una squadra, è una matricola un quartiere di Verona che già di persona città piccola che sono dieci anni che in Serie A fissi già questo è un record quest'anno non è partita benissimo però è vero che tra Palermo, Cagliari, Pescara, Siena che comunque ovviamente quella penalizzazione è imbischiato Chievo stesso ci sono cinque o sei squadre e sicuramente il Chievo di queste cinque o sei squadre è una di quelle che ha più chance di salvarsi però insomma quest'anno è partita un attimino io ringrazio Stefano Brandini che mi ha coagliuato in questa discussione di calcio nella quale vi ho spiegato non è che ci ho coagliuato tu come sempre mi servis solo per tenermi il microfono quindi mi servis ad altro voglio sentire perché non mi va di tenerlo perché sennò farebbe tranquillamente a meno non mi va di stare così siccome lui così ci sta spesso e lascio a voi l'immaginazione perché sta spesso così io vi saluto e vi auguro buona settimana non sto a dirvi dove glielo metto perché accadrà quando andremo a nero alla prossima ciao